Io credo che la preside del liceo Leonardo da Vinci, la professoressa Savino, non solo ha espresso legittimamente un punto di vista nell'ambito del principio dell'autonomia scolastica, ma ha fatto una cosa doverosa, perché il silenzio dopo il pestaggio di due studenti davanti alla loro scuola di sabato mattina fa più male del dibattito e la dirigente ha fatto quello che avrei fatto anche io al suo posto, ha invitato gli studenti, gli insegnanti, le famiglie a riflettere su un gesto così grave, ha invitato queste persone a condannare ogni forma di violenza e ha ricordato una cosa sacrosanta che la Costituzione italiana si basa su principi chiari, tra cui anche quelli dell'antifascismo e che dobbiamo tutti combattere arroganza, violenza, discriminazione. Ha detto delle cose giustissime, ma anche se qualcuno per assurdo non le condividesse, il giudizio del ministro Valditara sprezzante al limite della censura, anzi censorio, è un fatto gravissimo, è inedito, non è mai successo che un ministro della scuola ti potesse esprimere con questa arroganza e con questo tono sprezzante verso la dirigente di una scuola. Il ministro sarebbe dovuto venire a Firenze il giorno stesso, sabato, dopo quel pestaggio. E invece è rimasto in silenzio. Il ministro della pubblica istruzione, anzi oggi dell'istruzione e del merito, ha minacciato una sua dirigente scolastica? Ha minacciato ovviamente non fisicamente, è chiaro, ma è una minaccia di provvedimenti censorei, è una intimidazione perché il ministro esercita un suo potere gerarchico verso la dirigente di una scuola, ma ci rendiamo conto o no della gravità di questo fatto? E questa dirigente non ha fatto altro che invitare al dibattito la scuola perché la scuola non può vivere su un altro mondo quando succede quello che è successo sabato a Firenze. Ma cosa stiamo insegnando ai nostri ragazzi? L'indifferenza? Cioè noi abbiamo una dirigente che invita gli studenti a non essere indifferenti e il ministro la minaccia di potenziali provvedimenti. Io lo trovo gravissimo, il ministro si deve scusare oppure si deve dimettere.